Trovo due signori lì sul marciapiede che mi dicono guarda che dietro lui è entrato uno che ti ha rubato la borsa al che, incavolato matto, ho cominciato a seguirlo e a gridare chiamate la polizia, non facciamo scappare questi. Apparentemente sembrerebbe un fatto di cronaca come un altro quello accaduto nel negozio di ottica di Luciano Zennaro tra l'altro vicepresidente della Municipalità di Mestre. Un finto cliente distrae il titolare del negozio mentre il complice ne approfitta per rubargli la borsa. Ma in Viale San Marco a Mestre questa volta è successo qualcosa di diverso. All'allarme del commerciante i cittadini, già esasperati da alcuni furti avvenuti in zona una vedova di 90 anni è stata recentemente pesantemente derubata, si sono mobilitati. Abbiamo cominciato a rincorrere e si sono accodati una decina di persone quando siamo arrivati davanti alla farmacia, che il farmacista ha chiamato rapidamente la polizia eravamo una ventina e man mano che questo cercava di scappare la gente sempre di più si raggruppava e questo si è trovato in forma anche spontanea accerchiato. L'uomo arrestato dalla polizia è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine ma qui la cronaca lascia spazio ad un evento più importante. Questa volta la gente non ha girato la testa dall'altra parte. Vogliamo stare bene, vogliamo vivere attraverso le regole e le leggi quindi vogliamo che anche gli altri le rispettino, insomma noi difendendo il territorio. La polizia ci ha detto, mi raccomando lanciate questo messaggio ai cittadini, non sono abbandonati, noi non possiamo presidiare il territorio però ad una telefonata di qualche sospetto noi arriviamo di cosa.